Poste italiane sul podio dell'Identity Corporate Index, la di Delfante, il direttore generale Lasco, la sostenibilità è parte del nostro business e la capacità di integrare i principi di sostenibilità all'interno del proprio modello di business e di creare valore. Per l'Italia sono al centro del nuovo riconoscimento internazionale ricevuto da poste italiane che sale per il secondo anno consecutivo sul podio dell'Identity Corporate Index. In particolare l'indagine è focalizzata sul tema manager per la polis, facendo emergere l'importanza del ruolo svolto da poste italiane come azienda presente nella vita delle comunità e consapevole del valore strategico e competitivo nelle sue politiche di sostenibilità. L'amministratore delegato Matteo Delfante ha commentato che gli analisti riconoscono a posto i risultati sempre più solidi, efficaci nelle politiche di integrazione dei principi di sostenibilità, nella governance e nel business, contribuendo in modo rilevante alla nostra capacità di raggiungere gli obiettivi strategici del piano industriale. Per il direttore generale Giuseppe Lasco il risultato è particolarmente lusinghiere o per l'eccellente giudizio ottenuto da poste italiane nell'area tematica manager per la polis, in cui l'azienda, grazie all'iniziativa di supporto allo sviluppo dei territori, ha vista riconosciuta la responsabilità sociale della sua azione a sostegno del Paese.